Le difficoltà che altri giocatori stanno avendo e lui invece vuole mettersi assolutamente in partita. Ed è un fattore su entrambi i lati del campo, qui Binigan non guarda il ferro, preferisce scaricare nell'angolo per Melli. Extra pass per mettere in ritmo Savon Schiltz. La partita che ci aspettavamo. Rimessa dal lato di Schiltz, Voitman contro Geley, grande, taglio, backdoor di Schiltz. Lo perde la difesa di Bologna. Su cambio naturale che in questo momento è Devonola, infatti Schiltz porta palla, attacca Ojeley, si arresta, si prende il tiro e lo segna. Abbiamo sentito una parte del tempo con 4-0-8 da giocare nel quarto quarto, ancora gran difesa di Hackett anche contro Schiltz. Ancora Schiltz ci riprova che alla fine la vince lui la grande battaglia contro Daniel Hackett. Adesso Savon Schiltz si carica Milano sulle spalle. Grazie. Grazie.